Silvio Berlusconi è il proprietario della Mediaset, ma non è che gli potete dire qualcosa, quello passa le puttanate che hanno più audience, sono stronzi anche le persone che guardano queste puttanate, perché quello è un imprenditore e sostanzialmente tende ad arricchirsi, quindi è giusto che lo faccia, però fortunatamente in questi anni abbiamo avuto la RAI, che è una tv governativa, noi paghiamo le tasse, che è praticamente stata sempre vergogna. Non è che tipo è, è il silvio Berlusconi, non sai nemmeno chi è, però questo è il mio soldi, magari uno che non trova il posto, rispondi, no no cazzi su, va bene quindi stavo dicendo però fortunatamente abbiamo la RAI che è una tv governativa, che non è gestita da privati, che però è la stessa cosa, e fanno quei programmi tipo quello là che hanno fatto con l'Aventuri, Morgan del Blue Vertigo, la X-Files, questo qua, praticamente trattano male i diversamenti ambiti in televisione che vogliono cantare, no? Cioè va là i diversamenti ambiti, perché non è una tv, a parte non è una disposizione aperta a tutti, perché io normale non ci posso andare, non mi voglio, mi hanno detto sono bravo, qua suona la guitarra, no no, i diversamenti ambiti li fanno più la testa, va bene. E quindi, che tristezza, e quindi questa canzone nasce non per parlare di politica, ma per parlare del mio mito della tv italiana, cioè per la televisione sana, per quella tv, quel personaggio che quando io lo vedevo in televisione dicevo, cazzo questa è la televisione, questa è la televisione, lui, lui è il mito, lui è la televisione. E io che pensavo di saperne tante, ma cazzo non ho scoperto di essere ignorante, e io che pensavo che il super quarto fosse il nonno di zio Paperone, ma poi ho scoperto che la sua trasmissione, e io che lo chiamavo Angela perché pensavo che fosse donna e che pieno fosse cognome, ma invece mi sbagliavo, pieno all'altoe, e io che quando lo vedevo in tv con i bracci nasce che tutto ha persato nel corpo, pensavo fosse un effetto speciale, ma invece c'erano veri perché lui è mortale, e io che pensavo che la trombosi fosse una malattia del bisello... Grasso, mi sono cercato! Brasso, ma peficazzo è il mio non ci può stare. Assolutamente no! Torna la sua testa. Mi ha mostrato un attacco misterico, sta chiamando la polizia. Abbiamo parlato un'ora fa Facciamo lo stesso Facciamo i cori Ormai Piero Angela ce lo devi fare sentire Ma che c'è una volta Dai, suona semplicemente un semplificatore È un dici e un quarto Davide, Davide Suona un dici e 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 un dici E' subito adesso, scusa Davio, semmai vieni qua Da come l'ha detto ero terrorizzato Davide, lo ti posto il microfono Sì, sì Prova a cantare questa volta Ah, che vero Non è quella sequestra Nascondilo Eh, ma però il pezzo interrotto non si può più No, no, no No, eravamo voi da GX Alla trombosi Alla trombosi Che pubblico a te Io che pensavo che la trombosi fosse una malattia del riservo Uuuuuh Che non era quello Io che pensavo che il pezzo tattico fosse un tattico Che per evitare il pezzo si inflama nell'arco Grazie a uno stupendo che uno strano piano piano Dico al giorno per vedere che non c'entrano di nulla E la metto sul secondo canale Non si superfart con un programma invenziale Quale Vedo l'avventurico Morgan del blu verdico E con una vecchia con i capelli corti Che trattano male degli anticampati Che non ci spigli Invenziale 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 Credo all'avventurico su un sesto canale per vedere che il solo calma troppo troppo ma non si vuole porti il grande bravo io pensavo che il media secco facesse il mezzo era un programma ingolioso posto aperto e fa aperto un sogno io che pensavo che la politica fosse lo studio geografico dei conti ho scoperto che è vero un sogno io che pensavo che il patrimonio fosse il matrimonio che non fa omosessuali ho scoperto che è vero un sogno io che pensavo che lo stronzo fosse un tipo destalica e molto 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 giro ma fu scoperto che un elemento chimico non riesco a capire perché come si stava male? nascondi tutto guarda potendo acquistare i miei cd che è meglio non ci tengo già nessuno allora noi ti facciamo un applauso pensato un applauso uno devo avviare la signora che verrà un collasso Comunque io direi che se non c'era la signora che si faceva questo casino Non può ridare così la tua scuola Senti te lo chiede, non c'era la signora Senti te lo chiede